ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti nel mio canale io sono alex e per voi oggi andrò a fare un video diverso dal solito andrò a presentare tutta la mia strumentazione che uso per editare per giocare e soprattutto per divertirmi e condividere con quella mia passione andiamo a vedere che cosa sto parlando ragazzi innanzitutto sto filmando con il mio smartphone quindi se la qualità non è buona è dovuta a quello sicuramente non è come un reflex partiamo da qui il telo verde che mi permette di ricreare dei video alle mie spalle mentre sono seduto qui nella mia postazione nelle mie due sedie la postazione che ho già presentato nel mio scorso video postazione della play seat con il volante attaccato pedaliera volante cambio e poi qua abbiamo le cuffie della msi impianto dolby 7.1 guardate che belle molto comode servono soprattutto nei giochi di guida per sentire le auto che ti sorpassano oppure tu quando vai a sorpassare gli altri sono veramente veramente comode ritorniamo alla mia strumentazione qui nella parte davanti abbiamo le mie due fotocamere una della nikon nikon p520 che una coolpix una compatta con il treppiedi comprato su amazon veramente comodo si può indirizzare come si vuole la fotocamera e lo stesso treppiedi l'ho preso per la fotocamera titolare diciamo una canon eos 200 di con il microfono comprato da poco su amazon anche questa come vedete si può indirizzare dove si vuole molto comodo con qua sopra li vedete tutti i vari giochi di guida i due project cars 2 per pc xbox one tt tourist trophy per xbox one dirt 4 per xbox one e vari forza forza 5 forza 6 e forza 7 per xbox one ovviamente poi assetto corsa per playstation 4 per pc ce l'ho installato nel computer scaricato poi abbiamo drive club che non è un simulatore ma è un bellissimo gioco e poi qua abbiamo forza horizon 3 per xbox one con i due joystick per xbox one uno bianco comprato a parte poi questo qua nero ragazzi come vedete project scorpion edition anche qua sotto abbiamo un xbox one x modello project scorpion edition con sopra un hard disk da 4 tera comodissimo e a fianco una playstation 4 pro con il suo joystick qua a fianco invece abbiamo la bestia che mi permette di editare di giocare il pc da gaming della msi vedete qua le sue varie antenne che servono per il wifi veramente veramente una bestia piccolissimo ragazzi poco più grosso di una mano il monitor dell'lg il mio dispositivo dry boob che mi permette di usare lo stesso volante per giocare ai giochi della playstation 4 e dell' xbox one ragazzi ve l'ho presentato il mio penso primo video che ho fatto per voi e qui davanti come vedete abbiamo le due enormi luci che mi permettono di illuminare la stanza guardate che luce che fanno sono in metallo e si muovono insieme al volante quindi ragazzi abbiamo fatto una panoramica generale di tutta la mia attrezzatura per giocare per editare e per divertirmi ragazzi se avete qualche domanda lasciate un commento qui sotto vi risponderò molto volentieri e se volete sapere più nel dettaglio che cosa uso non esitate a chiedermi quindi ragazzi per oggi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un polliciozzo in su e iscrivetevi al mio canale mi raccomando attivate anche la campanellina per seguire i miei prossimi video e commentate mi raccomando ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao